Ma che fissate impazziti? Ma dove vi credete che stai? Noi siamo al Paipe! Noi siamo al Paipe! Come fa? No? Non lo so! Non è peggato, no? Non è peggato! 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 Piiiira! Pissi a Piiiira! Ma che si fa così! Ma il mio idea è che quello del tuo sia la chiave di tutto! E' il mio idea è che quello che ti sai fare! Ma che il mio amore non è tanto di ore! Non è solo un rinforzo! Non è solo un rinforzo! E' il mio amore! Non è solo un rinforzo! E' il mio amore! E' il mio amore! Se adesso il lavoro non si è una sfida, Mando mimorale! Non è solo un rinforzo! rrre! Mandole! Mandole! Te rinforzo! ma chi si avviene di nocà ma chi si chiama l'usia una squadra di rete una squadra di rete la chiama l'unico dobbla è vero che ti sanno da me la mano da me la mano non è nuovo il cuore non è solo se è solo se è solo grazie buonasera buonasera ciao amore ciao amore facciamo quella pronta Renato grazie grazie di esistere Renato grazie di questo regalo che ci hai fatto guarda Renato voglio far tu un regalo anch'io chiedimi quello che vuoi prima di darmi la verginità voglio la verità e cambiate giù di Damasco lui chi è? come mai l'hai portato con te? il suo ruolo mi spieghi quale da che dipende? da che punto guardi il mondo tutto? ha ha dipende scusa ma questa canzone non è la tua questa patata al capello con tutte quelle che ho scritto io nella vita adesso ma vatta a piangere il culo allora scusate allora ossigeno io io ringrazio tutto mi metti l'ego tipo papa mi piace il perfetto stadio io ringrazio tutti di essere venuti qui in questo posto pazzesco dove la vita da non è volte ci viene un pochino così maleggiata così forte così sistematica così matematica così alta bella prosperosa folle forte cazzo di papa poi è una forza della natura quando la natura viene su da un'erba molto fitta dove l'odore di quest'erba che fanno no questo non è niente esagerato ma che papa è questo? io sono forte sono una posizione estrema una posizione una posizione un pochino così sì folle la vita mi sta dando mi ha dato soprattutto io nella vita credo di avere una posizione e vi è da ridere un fondo grazie una posizione forte bravi non ridete sennò vi mando un fondo io sono fortissimo mi è stata coionata maestro grazie musica a a a a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti